allora partiamo da qua tutti i business in qualunque settore voi lavoriate hanno in comune i fondamentali che contano quindi la maggior parte delle persone ragazzi quando si approccia alla vendita ha tutta una serie di idee che noi adesso andremo a lavorare un po scardinare se no ma sai io vendo questo sai ma il mio settore molto particolare ma sai il mio prodotto molto particolare ma la mia zona è molto particolare i miei clienti sono strani no ma tu non conosci veneti no li conoscono stato sono lavorato ma sai tu non conosci napoletano conosco sono lavorato ma tu non conosce li conosco tutti cazzo ok e vi dico che è uguale fidatevi ok è solo un problema di comprendere quindi veramente quali sono i punti in comune tra i vari business e anche quali sono i punti di divergenza io ve li presento così abbiamo una base comune sulla quale dopo andare a discutere allora quali sono i punti che sono in comune tutti business allora tutti i business si rivolgono a un cliente uno studente o un paziente qualunque business di questo mondo che vuole raccogliere dei soldi vendendo qualcosa a qualcuno si rivolge a un cliente uno studente o un paziente non ci sono altre categorie di persone ok o di cose o di oggetti sono clienti studenti o pazienti tutti i business di questo mondo tutti vendono un prodotto vendono un servizio o vendono entrambi non ci sono altre cose che si possono vendere sono i prodotti sono diversi i servizi sono diversi ma io sto vendendo un servizio sto vendendo un prodotto o sto vendendo un mix di queste due cose si recano dai clienti a casa o in azienda o fanno in modo che i clienti vadano da loro in tutti i business di questo mondo o io vado a vendere a casa del cliente o vado in azienda dal cliente oppure ho il mio ufficio il mio negozio la mia e devo fare in modo che le persone vengano a me non ci sono altri modi di interagire con i clienti se sto parlando chiaramente di vendita diretta poi sono altri modi di vendere che magari non hanno a che fare con il mestiere del venditore puro come lo intendiamo noi devono avere un metodo per attrarre nuovi clienti tutti business di questo mondo se vogliono stare in piedi devono avere un metodo per attrarre nuovi clienti e normalmente i metodi che se siete qua vi sono stati insegnati sono quelli che se siete imprenditori avete provato a insegnare nella vostra azienda sono porta a porta telefonate a freddo o lista nomi amici parenti e conoscenti ok tutte queste cose non dovranno più esistere quando uscirete qua dentro alla fine dei quattro giorni non devono più esistere non devono non deve più esistere il porta porta freddo non devono esistere le telefonate a freddo e non deve esistere la lista nomi amici e parenti se no non state facendo il gioco del venditore professionale la venta professionale non ha nulla a che vedere con telefonate a freddo non ha nulla a che vedere con il telemarketing a freddo quindi non ha nulla a che vedere con il porta porta a freddo non ha nulla a che vedere con la lista nomi amici e parenti che non significa che non devo più usare il telefono o non devo più andare a suonare dalle persone significa che lo faccio quando tutta una serie di condizioni sono state soddisfatte e vedremo quali sono devono avere un metodo per chiudere i clienti che vengono attratti quindi mi serve un metodo innanzitutto per attrarre nuovi clienti e poi devo avere un metodo per chiuderli e noi su queste cose andremo a lavorare da ultimo devono avere un metodo per continuare a vendere altre cose e mantenere i vecchi clienti sono in un business che acquisisce clienti devo fare in modo di continuare fare in modo che loro continuino a comprare da me le action alcuni business magari che sono ricorrenti in tempi molto lunghi o se sto vendendo una centrale nucleare magari non me ne compra un'altra la mattina dopo però a buon senso ok e quindi devo continuare devo avere un metodo per fare upselling cioè rivendere altre cose magari gli stessi clienti perché i clienti che ho già acquisito sono i migliori e i clienti più facili ai quali rivendere se li tratto bene chiaro che se li tratto male no quindi molte azioni perché non li chiamiamo delle aziende che sono i clienti non li richiamano ma non le aziende voi sapete per esempio io stiamo facendo il corso venditore vincente ma io di mestiere realtà faccio l'imprenditore seriale il mio socio in alla simona in fondo noi abbiamo un francese in l'ambito assicurativo si chiama assicuratore facile abbiamo più di una ventina di punti vendita già parte già attivi e una delle cose che abbiamo notato come siamo entrati in questo settore è che gli assicuratori per esempio hanno tantissimi hanno un portafoglio clienti nome perché hanno la gente che va a fare l'rc auto per dire sono lì e fanno un una tentata vendita tra virgolette se fanno una proposta di un sette anni mi ha toccato secondo me c'è un po di margine qua dentro per fare del business giusto perché se gli altri sono dei suonati che provano a vendere una volta ogni sette anni magari se noi ci proviamo non dico ogni sette giorni ma anche ogni sette mesi magari qualcosa viene fuori questo vale per tutte le aziende chiaro che se poi clienti li tratti male è meglio se non li richiami perché ti mandano a fanculo ma quello insomma ci sta quindi tutti i business di questo mondo ragazzi condividono queste basi fondamentali gli unici ostacoli alle nostre vendite che potremmo avere per i prossimi quattro giorni io ci metto dentro anche il premio tanto so che rimanete tutti praticamente sono poche è la prima è ma il mio settore differente non è vero la seconda è ma nella mia città è diverso non è vero oppure ma i miei clienti sono molto particolari non è vero nemmeno questo quindi però io vado molto veloce su queste cose perché mi conoscete quindi immagino che se siete qua perché sono cose che già condividiamo le ridico i primi due minuti in modo che ci riconnettiamo invece in che cosa si sono diversi business guardiamo in che cosa si differenziano in realtà i vari business in termini di vendita allora ci sono una categoria di business che hanno dei clienti che sono immobili stanno fermi lì questa una volta impagliata se muove quindi di sparare ferma quali cosa vuol dire che esistono dei business con clienti immobili vuol dire che per esempio se io vendo sono nel b2b magari vendo prodotti per parrucchieri i miei clienti non si spostano stanno la faccio mi faccio la lista dei parrucchieri della zona che mi hanno affidato vado dentro e li vado a trovare il cliente non si sposta quindi non è diverso il business è diverso il focus che ognuno di voi dovrà dare se fa parte di venditori o imprenditori che lavorano con clienti immobili alle varie parti del metodo perché perché dopo vi faccio vedere che cosa si fa chiaramente con i clienti immobili quindi che cosa è più importante avere con loro è chiaro grazie il concetto i clienti immobili cliente immobile è io vendo ai bar i bar della mia zona sono lì non è che se non li devo andare oddio dove sono i miei clienti sono quelli li devo andare a fare sono facili da individuare non si sposta quindi vendo ai parrucchieri vendo ai bar che avendo tutti i negozianti un certo tipo vendo a tutti i veterini ok vendo a delle categorie specifiche che è facile mi danno una lista è facile andarli a trovare tra virgolette anche con le visite a freddo mi presento dentro faccio la famosa puntata vendita vendo ai ristoranti i ristoranti quelli sono ok quindi nella mia abilità non non è necessario quantomeno inizio in realtà non è vero perché poi lo vedrete che anche per loro è una cosa in comune però ve la banalizzo diciamo a livello zero non è necessario essere dei maghi del dare ma perché stanno la sti clienti dove li trovo quindi chi ha i clienti immobili lavora con dei clienti che sono facilmente identificabili innanzitutto perché so dove sono avendo la categoria so chi sono queste persone e però so anche che essendo facilmente identificabili io li trovo facilmente ma chi è che li trova anche facilmente bravissimi ovviamente quindi in tutti i modelli di business si vedrete che c'è sempre un vantaggio e uno svantaggio ok qui il vantaggio è che non dovete diventare dei maghi magari del dire perché stanno la che lo svantaggio qual è lo svantaggio è che hanno già dei prodotti della concorrenza per forza perché se io vendo prodotti e parrucchie e vado dentro quello qualcosa sta usando il vendo bibite vado dentro al bar quello c'era già la coca cola c'era già la red bull quindi se non mi devo spiegare di vendergli la monster magari faccio fatica cioè devo essere devo acquisire delle competenze che siano legate a un certo tipo di parti del sistema di vendita quindi per me sono prioritarie alcune competenze non è che il business è diventa cambia su che cosa io devo devo specializzarmi prima tutti dobbiamo fare usciti da qua le stesse cose però alcuni di noi si devono specializzare più velocemente su parti prioritarie per loro quindi nel mio business è differente devi capire in che cosa si differenzia per usare meglio le tecniche che ti insegno non per dire che anno è diverso allora non si può credo diverso su casa 3 o una vendita quindi che è sostitutiva perché se il mio modello di vendita è una vendita sostitutiva in questi casi perché perché vado da persone che sono facilmente identificabili vengono tutti i giorni beccati dai rappresentanti dei venditori dagli agenti della concorrenza e quindi il mio modello di vendita è un modello di vendita sostitutivo cioè devo convincere questa persona magari banalizzando a usare i miei prodotti invece che quelli della concorrenza semplicemente questo alcune volte gli porterò magari dei prodotti innovativi quindi non è sostitutivo in quel momento magari direttamente però lo sarà nel tempo perché quando arriverà la concorrenza che avrà copiato i prodotti magari innovativi della mia casa dovrò cominciare a continuare a usare i miei e non usare quelli della concorrenza che magari faranno lo sconto piuttosto che tutta una serie di offerte per convincerli a passare quello che facciamo noi ragazzi quando quando ci proviamo ci abbiamo un'aziendina non forte col brand cerchiamo entrare un po con le offerte gli sconti quelle cose li lo fanno anche gli altri semplicemente ok non c'è niente di male però magari noi usciamo con delle informazioni un po più precise quindi il focus su cosa deve essere se io dei clienti immobili 1 sulla capacità di creare e lavorare su un'idea differenziante quindi il mio focus ragazzi come venditore su dei clienti fermi non è tanto dove li trovo il dare è innanzitutto avere un'idea che nasca da un posizionamento rilevante cioè i miei prodotti miei servizi quello che io faccio deve essere differente più utile al cliente di quelli della concorrenza devo essere in grado di presentarlo in maniera che lui percepisca come più adatti alla sua situazione se non riesco a fare questo c'è poco da parlare per gli unici argomenti che avrò sarà sconto offerta promozione costa meno c'è la qualità migliore le solite cazzate che non vogliono dire niente ma non si vende lo so perché dici le solite cazzate che no alla nostra grande qualità diamo grande assistenza il servizio se me ne prendi andare lunedì c'è il prezzo bloccata che palle è chiaro che c'è la crisi c'è la crisi ma anche noi abbiamo delle armi che sono abbastanza spuntate e poi l'altro focus che io devo avere se vendo a dei clienti che sono immobili è sul follow up che cosa vuol dire che il mio focus deve essere sul follow up vuol dire che quando io impatto con un cliente questa è una cosa che approfondiremo meglio durante questi giorni però ve l'anticipo adesso in modo da capire il concetto quando io impatto con il cliente per mille motivi e questa è una cosa che ai venditori non si spiega mai ve la spiego io oggi vi dico perché allora quando io impatto con un cliente non è detto che io vado lì e ho voglia di vendergli chiaramente nel senso che vado lì per vendere non è detto che lui abbia voglia di comprare in quel momento o semplicemente sia possibilità toci abbia la possibilità o ci siano le condizioni perché noi si sia sincronizzati nella realtà nel mondo reale ragazzi i clienti spesso e volentieri magari comprano da me sono disposti a comprare da me ma nel momento in cui io gli faccio un'offerta loro non sono sincronizzati in quel momento a comprare perché perché non ci sono le condizioni perché magari non hanno il budget perché magari hanno altri investimenti in pista perché hanno degli altri problemi perché hanno già un accordo con qualcun altro che finisce più avanti perché hanno tutta una serie di problematiche a livello familiare personale aziendale che oggi vengono prima semplicemente quel prodotto credo io sarebbe molto interessante utile per loro ma non è prioritario in quell'esatto momento nel quale io lo vado a trovare tutto lì non c'è niente di male non c'è niente di male ok questa cosa non si può dire perché perché in tutti i metodi tra virgolette i corsi di vendita l'obiettivo è prendere le persone pomparle e convincerle che se vuoi ce la fai che è vero da un certo punto di vista ma è lontano dalla realtà quando poi mi vado a scontrare con il mondo reale della vendita quindi non si può dire questa cosa le persone non si può dire perché se non sai cosa insegnargli allora diventa un casino perché si dico sai quando tu vai a vendere non è sempre detto che il cliente in quell'esante in quell'istante esatto sia disposto a comprare allora è un problema cosa vuol dire che la stima di follow up il follow up è il dopo cioè quello che io faccio dopo aver incontrato il cliente e fatto la mia trattativa c'è c'è un prima nel nostro sistema di vendita c'è tutte le azioni che io faccio prima del buongiorno signore sono c'è un durante che parte da buongiorno mi presento sono della cantacessi e figli mi posso spiegarla nostra azienda e finisce con il grazie di aver comprato ci risentiamo e poi c'è un dopo il dopo si fa con gli stessi strumenti che si utilizzano nel prima cioè con delle comunicazioni col direct response marketing che vi spiegherà hermes questa sera quando faremo la sessione la terza sessione di oggi sarà hermes giordani che vi spiegherà queste cose le vedremo domani se in realtà questa sera lavoreremo su altre cose con lui sono molto più importanti sono il target e follow up significa che io continuo a tenere il cliente aggiornato attraverso le mie iniziative che mi sono 6 letter quindi sono articoli del blog quindi sono email tutta una serie di diciamo marketing educativo che io continuo a inviare costantemente la persona per rimanere primo nella sua testa e continuare ad affinare la percezione della mia idea differenziante nella sua testa vi faccio un esempio facile interno scusi che abbiamo magari voi avete impattato sul mio blog avete visto che c'era il mio corso mesi fa anni fa alcuni e siete venuti oggi perché non perché io avete visto magari la 6 letter siete stati chiamati da si non hanno fa e avete comprato no ok perché avete continuato a ricevere tutta una serie di marketing educazionale tutta una serie di follow up che nel tempo tra virgolette usiamo questa parola vi hanno convinto che fosse il corso giusto per voi oppure eravate già interessati magari un anno fa sei mesi fa ok due anni fa però non c'erano le condizioni magari avevate altre priorità ragazzi semplicemente come molti clienti magari non avevate il baggio ma dati soldi ok avete aspettato di metterli via in modo che oppure li avevate ma erano più era prioritario per voi spenderle in altre cose più importanti del corso venditore vincente ok stessa cosa fanno i clienti con voi il problema di chi lavora con clienti immobili tendenzialmente che pensa buongiorno finita la trattativa finito tutto non è così alla fine la trattativa se ho chiuso ottimo se non ho chiuso è il principio realtà del rapporto con il cliente che non è tutte le volte come mi hanno spiegato nella mia azienda torno a fare il giro logico cioè a distanza di x giorni lo torno a trovare buongiorno e ripeto lo stesso disco rotto perché ripeto lo stesso disco rotto e siamo da capo un'altra volta quindi magari vendo perché lo prendo per sfinimento magari lo prendo lo vendo perché ha litigato casualmente il giorno prima col suo fornitore quindi il momento per me ma non c'è molta scienza non c'è molta vendita professionale dietro questa cosa qua una botta di culo che va per ci va aiuta sempre ma non è ciò che io voglio insegnarvi le botte di culo siete già bravi da sole procurarvele io cerco di darvi quegli strumenti in questi giorni che possano esservi utili per diventare dei professionisti tutti gli effetti ok oppure abbiamo i clienti sfuggenti clienti sfuggenti che sono i clienti che giocano a nascondino i clienti sfuggenti ragazzi non è che giocano a nascondino in realtà non è che non si fanno trovare e che è difficile capire chi sono perché perché un conto dire io vendo prodotti per parrucchieri parrucchieri stanno lance move ok ma diciamo che voi vendete per esempio software nella vostra azienda noi vendete un software per la pmi e quindi il vostro titolare il vostro direttore commerciale ha come grandissima strategia di marketing di vendita darvi una bella lista di snc sas srl stratta più o meno le pagine gialle dirvi darvi un calcio nel culo mandare fuori con la valigetta e dirvi tutti possono essere i nostri clienti ok quando tutti possono essere i nostri clienti siete nella merda ma una merda proprio perché vuol dire che la vostra azienda non sa chi cazzo ha il suo target se proprio state brancolando nel buio e venite utilizzati come carne da cannone perché l'azienda non sapendo come cazzo si fa individuare un cliente target e sono cose che vi insegneremo questa sera di insegnare a ermes vi manda a fare da carne da cannone umana cioè sa bene che per individuare il target se tu impatti su 20 clienti non qualificati a culo uno magari a che fare con ciò che noi vendiamo e per me che tu hai preso 19 vaffanculo allora c'è tutta la teoria che è bello che il nor in forza che il vaffanculo fa bene magari per me non è obbligatorio se mi piace anche quando vado a parlare con dei clienti che vogliono comprare quindi voi siete già maestri di prendere i noi vaffanculo io non vi voglio insegnare non voglio convincere a prenderne di più voglio convincere a prenderne meno questo è il dato quindi clienti sfuggenti come sono allora sono difficilmente identificabili tendenzialmente quando il prodotto può andare bene per tutti questo tra le varie aziende che ho un'azienda di marketing è un'agenzia marketing si occupa di direct marketing si chiama marketing risposta diretta puntocom magari l'avete vista e è nata per in realtà aiutare quelli che sono erano già i miei studenti non è aperta all'esterno come molte delle mie aziende sono tutte le mie aziende sono aperte solo all'interno c'è solo a chi viene a fare i corsi noi eroghiamo prodotti servizi possibilità di business possibilità di lavorare con un investimento non prendiamo nessuno di esterno mai e e ci sono quando io devo organizzare una campagna di marketing risposta diretta per persone che hanno i clienti fermi più facile perché sono lì e quindi mi devo preoccupare magari del copy di scrivere bene la sales perché sono lì è facile individuarli ma quando io lavoro con degli studenti che hanno dei clienti che sono sfuggenti è un casino perché tutto il lavoro non è mica scrivere bene la sales letter non è mica avere le argomentazioni motivanti non è mica avere l'idea differenziante certo che avere anche tutte quelle cose lì ma il vero problema è do cazzo sta sta gente a chi le mandiamo ste lettere che non le posso mandare a milioni di persone sperando ammazzare uno se no spendo un'infinità ok cioè se io devo fare una campagna che ne so a mauri lati che vende infissi che vende infissi finestre potenzialmente tutte le persone la sua città che stanno dentro una casa hanno bisogno delle fine di cambiare le finestre ok in realtà se devo fare così c'è domandare su tutti i cap di milano una cassa di sales letter mi costa un milione di euro solo il perché non si può fare così il marketing ok quindi se non si può fare così marketing un problema quando lui deve avere un venditore perché il venditore a chi cazzo le va a vendere se certo capite ragazzi qual è il problema e questo vale per chiunque abbia un'azienda che dice potenzialmente tutti i privati della mia zona possono essere nostri clienti quando tutti possono essere nostri clienti io mi tocco cioè quando sento uno che mi dice tutti possono essere clienti io mi tocco i coglioni perché veramente siamo proprio siamo siamo veramente lontani è veramente disastroso qui la mia vendita tendenzialmente in questi casi è più che una vendita sostitutiva più probabilmente tende ad essere una vendita di idee innovative alle persone quindi di prodotti innovativi quindi essendo difficilmente identificabili lo svantaggio è che do cacchio li trovo la verità è che quando poi sono bravo a trovarli molto spesso se io vendo anche cose innovative veramente un po diverse o quant'altro diciamo che forse si arriva anche per primo quindi riesco a fare anche un altro gioco se perché non sono fermi lì quindi non sono facilmente identificabili no e quindi anche la concorrenza fa più fatica ad arrivarci sopra o fa la stessa fatica comunque che faccio io se i miei competitor non sono più avvantaggiati di me hanno sono nello stesso lago di cacca nel quale mi sono infilato io al vantaggio che ho più possibilità magari di apparire innovativo perché non c'è 100 persone tutti i giorni che lo vanno a trovare proponendo di quel tipo di prodotto perché il parrucchiere tutti i giorni c'è 100 rappresentanti che gli propongono lo shampoo nuovo ok io vado in azienda proporre il software sì magari c'è passato qualche rappresentante ma il mio se un po particolare magari entra come argomentazione la vendita di idee innovative è il mio focus che non è che cambia rispetto alla vendita sostitutiva quando vi avrò insegnato tutto il sistema però leggermente devo capire su che cosa devo fare leva il focus in questo caso su individuazione del target quindi anche il mio settore è differente mistura è differente perché quando io vendo a clienti che non si sa chi cacchio sono la mia arte innanzitutto deve essere sapere a chi devo comunicare indifferentemente resti poi come gli vogliamo comunicare la sua parte gli scherzi e le cose che capiremo insieme alla fine delle quattro giornate però fosse anche semplicemente che voglio andare a fare il porta a porta suonare campanelli a tutti ok il premio a chi a chi suono faccio telemarketing a freddo metto a chi a tutta la lista delle persone della mia zona a tutte le srl snc della mia zona cazzo finché non ho brasato l'orecchio del cliente dei miei venditori o il mio è questo il problema l'altro è devo diventare ma bravo nel marketing a risposta diretta cioè il cosa e il come li raggiungo quindi tutte quelle pratiche sostitutive di quelle che vi ho detto adesso no quindi del dell'impatto a freddo su questa cosa mi voglio soffermare un attimo per spiegarvi un passaggio importante allora qui apro un grande tabù una grande parentesi una delle convinzioni fondamentali di chi frequenta dei corsi vendita in generale è che la vendita meglio ancora sia convincere le persone a comprare quello che io ho da dargli addirittura è avere delle tecniche particolari delle frasi particolari delle tecniche ipnotiche magari che fanno cambiare idea al cliente questa cosa cambiare idea al cliente convincere il cliente a cambiare idea e quindi accettare quello che gli dico non comprare magari dagli altri bene tutte queste cose con la vendita professionale non hanno niente a che vedere niente la mente professionale a che vedere con un'altra cosa la prima regola del marketing se qualcuno di voi magari mi segue ha letto positioning di jack trout or is posizionarsi in italiano sono più pubblicato da dal 1980 però magari è ripete jack trout ripete spesso questa cosa cioè la prima regola del marketing del posizionamento è le persone non cambiano idea fine la vendita professionale nasce da questo principio le persone non cambiano idea mai fine quindi se il tuo scopo è essere venuto qua perché ti insegni come far cambiare idea le persone no buono io cazzo inculati i soldi no vincendo delle cose buone comunque migliori di portare le persone a cambiare idea la vendita a che fare con un'altra cosa cioè ve la metto giù ruvida voi in questo momento perdonatemi se la metto giù ruvida cercate di capire il messaggio che c'è all'interno vale per voi come vale anche per me come in tutte le mie aziende con tutti i miei miei venditori allora quando voi vendete a qualcosa qualcuno e nella vostra testa giustamente lo avete anche convinto a comprare perché vi siete fatti un culo così la trattativa la negoziazione però vi devo svelare la verità che c'è dietro se voi non avete fatto nient'altro che aver impattato con un cliente target poi lo avete lavorato bene ma di base avete trovate impattato con una persona che si rispecchia si rispecchiava prima ancora di incontrarvi con le idee della vostra azienda del vostro prodotto l'idea che voi gli avete presentato c'era d'accordo prima che voi dentro anche senza saperlo dentro di sé era d'accordo prima ancora di incontrarvi quindi che cosa fanno le aziende in realtà le aziende hanno capito questa cosa che la vendita è un gioco di numeri no o meglio lo è quando io sbaglio il passaggio fondamentale cioè se è chiaro che se io ti faccio faccia se la mia regola e fai 100 telefonate per fissare 20 appuntamenti a questi eventi appuntamenti viene fuori un contratto vi dico delle cifre a caso ragazzi poi ognuno nel suo settore sono leggermente diverse che cosa vi sta dicendo l'imprenditore il direttore vendita al formatore magari che vi sta insegnando queste cose ma sta dicendo innanzitutto che non sa come cazzo si trovano i clienti target la vostra azienda e quindi ci sono due livelli nei quali voi siete carne da cannone cioè il primo livello è è chiaro che se io non so a chi devo telefonare o chi devo andare a visitare ho bisogno di fare 100 telefonate magari perché da questi venti l'imbambolo e quantomeno mi ricevono ok di questi venti in realtà è ovvio che se la mia azienda dei prodotti buoni siamo concorrenziali comunque sul mercato abbiamo un angolo di attacco interessante è normale che di questi 20 30 persone magari 123 x non lo possiamo sapere siano target quindi quando io vado a parlare con loro se faccio un buon lavoro chiaramente li converto il converto in clienti attivi che mi pagano il dato ragazzi è che io non voglio insegnarvi a farvi massacrare il modello carne da cannone quello ve l'hanno già insegnato l'obiettivo del venditore professionale in realtà in particolare in questi casi è andare a parlare con clienti che sono già prequalificati ci sono già molto interessati alla nostra idea differenziante arrivare a parlare con persone che sono già pronte a valutare in maniera incuriosita con mente aperta quello che noi abbiamo da presentargli poi dopo c'è tutta la trattativa devo fare bene cioè la gente il cliente non si suicida mai ragazzi e sul foglio copia commissione mai però un conto è andare a casaccio parlare con delle persone che non mi hanno mai visto né sentito né conosciuto non sanno cosa viene sanno niente quindi da zero e buongiorno posso parlare della mia azienda andare a impattare contro persone che sono clienti target che ne vogliono sapere di più perché hanno ricevuto magari una mia comunicazione o delle mie azioni di marketing che dopo vedremo ve la faccio in maniera diversa ancora più semplice la persona che su base cento avete convinto a comprare presentandovi a freddo da lei è una persona che avrebbe risposto ancora meglio quindi la trattativa sarebbe stata ancora più facile se non aveste fatto delle azioni di marketing a risposta diretta su di lei magari gli mandavate una serie slatter questa persona reagiva vi chiamava indietro vi lasciava i dati sul modulo se era online oppure semplicemente quando dopo la voi l'aveste richiamata il telefono salve come capita a noi in tantissimi casi anche nelle mie aziende è cazzo si può preguardi la stavo per chiamare altro giorno poi sono tornato nei miei casi per inter mi dica mi dica questo è quello che succede quindi l'obiettivo ragazzi è lavorare in questa maniera cioè avere a che fare con delle persone che sono interessate a parlare con me non a strappare degli appuntamenti a gente che non gliene frega un cazzo in realtà e usano come strategia quella di dirmi venga venga esattamente quando sono fissati l'appuntamento per andare in banca così voi andate lì e non c'è nessuno è mai capitato per chi vende le aziende noi presentate come venditori che hanno dato un appuntamento magari l'avete fissato voi magari ve l'ha fissato un call center e se voi siete imprenditori come la mia strategia è fissare gli appuntamenti a venditori che non voglio vedere però non dovesse no ma si fidi vedrà che sarà bello guardi venga pure gli fisso l'appuntamento quando sono fuori come so che non ci sono sono in piscina due ore qua non ti trovo perché perché io so che il il venditore ha normalmente degli appuntamenti abbastanza serrati quindi se lo faccio aspettare più di 15 20 minuti quello scialla perché ha la giornata programmata quello che cade la maggior parte di voi quando non vi capita l'imprenditore rientra che vi vede cazzo che sei lì tipo in sala di aspetto no figa cazzo questo non se n'è andato come cazzo come cazzo faccio allora vi fa aspettare un'altra mezz'ora ok ok se lo faccio aspettare questo si rompe il cazzo e se ne va da solo se voi siete proprio stinati cazzo quando arrivati o guardi però se ne ritardo c'ho solo due minuti e mi dica al volo ok questa è la vita di merda di chi come me viene dalla vendita alle aziende per tanti anni prendi dei calci nel culo come se non ci fosse domani ok ok io vorrei è un po è un po così è un po così ok e dopo un po che prendevo calci nel culo ne ho presi che ho le misure sul culo della pianta dei piedi di mille tipi di scarpe diverse quando mi sono rotti i colli ho detto secondo me qua questa storia che se ci credi funziona a mano in culato quindi adesso secondo me è bella sta storia che se ci devi credi io ci credo però mi stanno prendendo a piadata nel culo tutta la vita no ma quando è ai 60 in pensione non ci arrivo mi ammazzano prima quindi detto mi devo che non ce la faccio quindi devo cambiare qualche cosa ok ragazzi quindi questo è il principio fondamentale della vendita professionale parlare con persone target non con persone a che cioè io o meglio individuare clienti target in un mondo ideale che il mondo per esempio di tutte le mie aziende è compito dell'impresa l'azienda trova i lead che sarebbe il cliente caldo potenzialmente interessato a valutare quello che da fare il vendito il compito del venditore trasformare un cliente caldo in contratto sono proprio due ruoli diversi da voi non è così lo so che non c'è bisogno quindi io vi insegnerò a supplire ai limiti della vostra azienda che invece vi usa non vi da formazione vi usa come carne da canone cioè vi fa fare da marketing a risposta diretta umano ok vi fa saltare il vostro culo sulle mine anti uomo intanto che se sopravvivete e portate a casa un po di ciccia va tutto bene quindi questa è la strategia allora altra differenza che esiste quindi il mio settore di fare diverso settore è diverso un pochino il focus che io devo avere se avendo privati ovendo magari b2b cioè avendo alle aziende è leggermente diverso perché il privato che sia immobile o mobile diciamo questo l'abbiamo già dato per buono però quando lo individuo è lì e quindi mi devo concentrare a fare bene la trattativa in un certo modo col privato ci sono state con le aziende c'è qualche altra differenza allora innanzitutto nella vendita alle aziende il focus su raggiungere chi decide perché se io parlo devo parlare con la signora maria suo marito sono loro nel grosso sono loro in alcune cose per esempio in acquisti complessi per i privati io vengo per esempio quando ero ragazzo dall'immobiliare no ma devi vendere casa a qualcuno magari c'è sempre qualcuno di esterno poi magari domani non lavoriamo bene cioè c'è l'amico che gli fa un po da consulente il giorno oppure ci sono i genitori che magari mettono i soldi quindi vogliono essere interessati però si dove vendano aspirapolveri sui ragazzi che vengono dalla folletta una faremico vanno dentro la signora gli vendono tante volte anche senza il marito non c'è bisogno ok mentre se io vendo alle aziende innanzitutto il mio problema raggiungere chi decide cioè chi vende b2b con chi cazzo parli c'è possibile che te l'unica cosa che la tua azienda insegna è possibile lo so mi dispiace però dico tra me meno possibile che l'unica cosa della tua azienda ha insegnato è spingere la porta delle aziende buongiorno con chi devo parlare che è responsabile la segretaria ti manda affanculo è pagata per mandarti affanculo per fare da filtro e per tenerti fuori quindi se io parto così vendo alle aziende e parto così dal basso nazionale problema il mio settore diverso no ma chissà se le tecniche di vendita di frank funzionano è che tu lo stai parlando con la persona sbagliata colpa delle mie tecniche di vendita colpa tua una colpa di nessuno è che in azienda non ti hanno dato gli strumenti per fare il lavoro che ti mandano a suicidarti come l'esercito messicano cazzo contro le mitragliatrici degli usa sapete come faceva l'esercito messicano adesso messicano combatteva così dava l'assalto tutti su un'unica riga e andavano avanti chiaramente come ci hanno provato per i stati uniti col mitra due sventagliati sono morti tutti non c'è provato più ok quindi la maggior parte di voi in questo momento fa parte del di una cosa che siamo a rete vendita che in realtà è l'esercito messicano della vostra azienda io cercherò di smessicanarvi alla fine di questi quattro giorni ed essere un po più scegliete voi il popolo che più vi piace ok l'altro problema quindi altro foco sono il problema è quindi sul direct marketing cioè se io il mio obiettivo il mio focus raggiungere chi decide io devo essere capace nel non schiantarmi non suicidarmi partendo dal livello più basso dell'azienda ma lavorare i direct marketing come vi insegneremo a fare in modo da trovare dei clienti target e che contemporaneamente decidono comunque o hanno all'interno dell'azienda almeno un pezzo del potere decisionale senza questo ragazzi sono costretto a suicidarmi a partire bussare porta incontrare segretaria da lì cioè se io tutte le volte ragazzi entro in azienda dal buco del culo dello scarico del bagno cioè poi risalire fino al capo è un casino se intanto che passi la segretaria il middle manager e l'impiegato è quella che si tromba al capo che un ruolo che si chiama manager ma è quella che si tromba al capo e arrivi a lui le longa si dice modena che va bene ma le longa quindi terzo interagire con motivazioni di acquisto che sono differenti che cosa vuol dire vuol dire assi che non è che è diverso il mio settore sistema di vendita o quant'altro no ma che in azienda magari ci sono più interlocutori e la motivazione di un manager con il quale magari devo parlare perché nelle aziende strutturate magari devo parlare con il responsabile acquista ci metto un po magari a trovare il decisore ora un impiegato all'interno dell'azienda che devo col quale devo parlare o un manager ha una motivazione diversa dall'imprenditore questa è una cosa che vi spiegherò domani quando guarderemo quella cosa che sia una mappa decisionale cioè come interagire quando ho davanti gli interlocutori però vi anticipo il concetto di base allora un manager come motivazione l'imprenditore la motivazione sana in realtà al di là che poi sia simpatico meno simpatico che capisca non capisco però ha la motivazione veramente di mandare avanti l'azienda nel miglior modo possibile che poi lo sappia fare non lo sappia fare sono altre considerazioni il manager no il manager nessun manager interna dell'azienda a cuore il bene dell'azienda quando voi avete a che fare con un impiegato un manager quello a cuore il suo culo su quella poltrona il più a lungo possibile quindi mentre l'imprenditore magari più aperto a nuove idee innovare magari comunque esplorare ma è sempre detto però comunque è veramente orientato a capire se qualcosa può essere il bene per la sua azienda quando voi parlate con un manager voi dovete fare la trattativa sempre con il sistema venditore vincente ma sapendo che la sua motivazione di acquisto e tenere il culo piantato su quella sedia e quindi se gli parlate di cose nuove strane innovazioni ma di cazzo questa è troppo strana se la sbaglio io è colpa mia mi fanno il culo quindi no vi do un'indicazione rapida poi vi giuro che la lavoriamo bene nel dettaglio insegno come farla però il manager ha due motivazioni cioè compra sempre solo da due fornitori compra dal leader di mercato se la sua azienda gli dal budget se lo può permettere perché così alla scusa e questo era il migliore capo che cazzo devo fare poi c'è un inculato non so cosa devo fare si è parato il culo oppure se non c'è un vero e proprio leader di mercato riconosciuto o è costretto a rivolgersi ok a fare magari uno speed dating cioè chiamare più aziende in concorrenza che sono tutte più o meno simili per farsi fare dei preventivi compra dal meno caro perché c'è un caso ma vi detto di risparmiare questi ci hanno fatto il preventivo migliore che devo fa quindi è sempre salvo quindi se noi non siamo il leader di mercato o sempre quello che può fare l'offerta più scannata e vendiamo alle aziende devo imparare a lavorare con il manager perché se no mi fanno un culo come un cestone su tutte le volte faccio il distributore di preventivi e non ne chiudo uno per quel motivo lì perché magari delle idee troppo belle per il livello al quale sto parlando poi quelle idee magari le devo usare quando cambio marcia per quello che ho detto devo interagire con motivazioni di acquisto diverse semplicemente perché sono trattative diverse cioè io faccio una trattativa col manager mi permette di interagire con quello che decide che magari anche l'imprenditore o il cd a seconda della grande se l'azienda quando parlo con lui cambio marcia in realtà rifaccio la trattativa da zero vado a lavorare sulle sue motivazioni che sono diverse di quelle in basso qual è prima ragazzi che tutti noi che non siamo addestrati o meglio siamo addestrati solo a sopravvivere perché voi siete siete qua oggi e perché avete i coglioni d'acciaio e siete sopra siete dei sopravvissuti è che io arrivo mi hanno insegnato la fila strocca caratteristiche vantaggi benefici il prodotto la dirico sempre uguale la ridico al manager la ridico all'imprenditore a uno dei due non entra e quando non entra uno di due non ho venduto quindi devo avere proprio culo che la mia fila strocca piazza a tutti quelli della scala gerarchica all'interno dell'azienda è perché lei spiega la nostra azienda che siamo nati dal 1970 e il nostro titolare ha fatto questo che noi abbiamo la grande qualità l'orientamento al client dopo un po è difficile vendere così veramente 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 difficile grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti